Ci troviamo a Strasatti, ancora una volta in quella che doveva essere la nuova piazza mercato di Strasatti, dove allocare il mercatino e tante altre attività. Abbiamo visto la situazione negli ultimi mesi davvero precaria. Ebbene, grazie alla segnalazione dei tanti cittadini che ci continuano a telefonare giorno per giorno, qui la situazione è addirittura peggiorata perché adesso la spazzatura ha travalicato i confini della piazza e ha invaso anche la carreggiata della via Giuseppe Clemente e quindi la situazione anche da un punto di vista igienico-sanitario è diventata davvero invivibile. Cumuli di spazzatura al sole con temperature torride di questi giorni, anche dall'altro lato della strada cumuli di spazzatura certamente molti incivili che abbandonano perché non fanno la differenziata per tanti altri motivi, abbandonano i loro rifiuti in questa che è diventata la pattumiera di Marsala. Però c'è da anche dire che la situazione è in continuo abbandono perché vediamo anche le erbacee alte, vediamo che non c'è nessuna manutenzione, significa che questa zona proprio non viene posta all'attenzione da parte di nessuno. I rifiuti sono molto pericolosi, c'è vetro, bottiglie rotte, qualsiasi cosa viene gettata qui nella via Giuseppe Clemente nel mercatino, vediamo sedie, vediamo rifiuti ingombranti di ogni tipo, vediamo animali, cani, randaggi che uccidono topi, ci sono carcassi di topi, non vi sto a descrivere il fetore che viene da questi luoghi. La spazzatura è dovunque, dovunque in questa zona, piena è un tappeto, ci sono materassi come vedete, pneumatici, l'erba alta che nasconde un po' tutto, davvero una situazione, una bomba ecologica in pieno centro a Strasatti e l'abbiamo sottolineato, l'abbiamo chiamata la pattumiera di Marsala perché questa è la pattumiera di Marsala.